Musica Comunità montana Vallo di Diano, cavallone verso la presidenza, manca solo l'ok del Consiglio Generale, questa sera riunione della Delegazione Provinciale del PD. Buon abitacolo, vandalizzata una cabina elettrica con un trattore, paese al buio. Eboli tenta di entrare nell'appartamento della ex arrestatum, 24enne. Organizzazione 20, Giuseppe Lupo, eletto coordinatore regionale dell'UNOE e presenta l'associazione. Calcio è nuovo di PCM, troppe incertezze dilettanti ancora ai box fino al 5 marzo. Buongiorno e bentrovati, eccoci al nostro telegiornale. Il sindaco di Sala Consilina, Francesco Cavallone, incassa l'appoggio anche dei quattro comuni dissidenti afferenti al gruppo strategia Vallo, ora la presidenza della comunità montana è praticamente certa. In Consiglio Generale dovrebbe solo essere ufficializzata. Francesco Cavallone, nuovo presidente della comunità montana Vallo di Diano, mancherebbe, pare, solo l'ufficialità che può arrivare solo nel Consiglio Generale dell'ente montano, ormai prossimo alla convocazione, per rendere definitiva la decisione della maggior parte dei sindaci valdianesi. E' infatti schiacciante il sostegno al sindaco di Sala Consilina, al momento alla guida anche del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro e del Comitato dei Sindaci del distretto 72. Nei giorni scorsi il delegato Vittorio Esposito, a cui il Consiglio aveva dato mandato nell'ultima seduta del 19 dicembre scorso per trovare la sintesi su un nome comune che potesse guidare la comunità montana in un progetto di rinnovamento e cambiamento, ha sottoposto il documento di sostegno a Cavallone ai sindaci valdianesi, ottenendo il sostegno che si aggira intorno all'80%. Ed è proprio la volontà di cambiamento che ha spinto Cavallone ad essere indicato e scelto come successore di Raffaele Accetta. Ma non solo un cambiamento alla guida dell'ente montano, ma un cambiamento più generale in tutti gli altri enti comprensoriali. Tutto da ridiscutere e ridefinire ora anche alla guida del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro, in scadenza il prossimo maggio, e alla guida del Comitato dei Sindaci del distretto sanitario, che Cavallone, una volta eletto presidente della comunità montana, dovrebbe lasciare. Nella serata di ieri è arrivata la comunicazione da parte del gruppo di dissidenti Strategia Vallo, composto dai sindaci dei comuni di Atena, Buonabitacolo, Montesano e Polla, che hanno ufficializzato la loro posizione, sottoscrivendo il documento a sostegno di Cavallone come presidente della comunità montana. Una conferma che è stata anche ufficializzata con una nota stampa, firma del capogruppo Luigi Vertucci, in cui è stato rimarcato come la condivisione della candidatura del sindaco di Sala Consina Cavallone a presidente della comunità montana, si legge nella nota, si prefigura come l'inizio di un nuovo percorso che saprà tracciare un concreto programma di servizi efficienti e di sviluppo economico, al fine di garantire alla popolazione del Vallo di Diano la permanenza nei propri territori. L'ampia e condivisa riflessione, si legge ancora, che ha visto tutti coinvolti e l'unità istituzionale che ha dato dignità politica ad ogni comunità saranno gli elementi alla base delle scelte future che dovranno essere coraggiose per dare risposte e speranze ad ogni singolo cittadino di ogni singolo comune del Vallo di Diano. In attesa della convocazione del Consiglio Generale della Comunità montana con all'ordine del giorno l'elezione del nuovo presidente, convocazione che dovrebbe arrivare a breve, Questa sera la direzione provinciale del PD si riunirà nuovamente per la presa d'atto del documento che vede il sostegno comune e condiviso della maggior parte dei sindaci valdianesi sul nome di Francesco Cavallone. La cronaca a Buonabitacolo ieri è stata vandalizzata una cabina elettrica, i gnoti hanno usato un trattore per sradicarla, diverse zone del paese al buio. Buonabitacolo ieri sera è rimasto al buio non tutto il paese ma diverse zone. A partire dal tardo pomeriggio all'improvviso l'interruzione dell'energia elettrica di molte linee pubbliche e private. La cabina elettrica incontrata a Cornalito è stata completamente distrutta. Darne notizia il sindaco Giancarlo Guercio ad aver causato il disagio sono stati dei vandali. stando a quanto racconta il primo cittadino avrebbero usato un trattore per sradicarla. Circa un quarto del paese è rimasto senza corrente. Si sono ritrovati al buio i residenti di Contrada a Cornalito, una zona tra l'altro dove era appena stato riparato un guasto complesso. Comune ed è nel subito al lavoro per la risoluzione del problema entro oggi. Devo ammettere una cosa, commenta il sindaco Guercio, in questi casi provo un senso di vergogna poiché in quanto sindaco rappresento anche personaggi che per chissà quali misteriosi ragioni si divertono a distruggere, a rovinare, inquinare. Siete delle bestie incivili e non meritate nessuna considerazione, dice rivolgendosi ai responsabili del gesto. Non valete niente, avevamo appena riparato un guasto complesso che aveva causato disagio a molte persone che per troppo tempo erano rimaste al buio. Cosa avete ottenuto? Vi siete tolti uno sfizio? Ma che soddisfazione? Non vi rappresento chiunque voi siate. Stamattina la denuncia contro i gnoti ai carabinieri perché possano fare gli approfondimenti del caso. Ha tentato di entrare nell'appartamento dell'ex compagna da cui era stato allontanato per maltrattamenti in famiglia. È stato arrestato ad Eboli un 24enne. Due arresti nelle ultime ore per la compagnia dei carabinieri di Eboli e gli ordini del capitano Emanuele Tanzilli è in carcere a Furni il 24enne straniero che stanotte è stato tratto in arresto dai militari dell'arma con i reati di atti persecutori e tentata violazione di domicilio. L'uomo ha tentato di forzare l'accesso dell'appartamento in cui dallo scorso giugno sono stati ospitati l'ex compagna con i figli a seguito di denuncia del 24enne per maltrattamenti in famiglia. L'arrestato è stato sorpreso mentre tentava di buttare giù la porta minacciando di morte l'ex con i carabinieri di Santa Cecilia diretti dal maresciallo Fabio Basilisco a tradurre in carcere a Salerno il Giovane. Nella serata di ieri i carabinieri della stazione di campagna hanno arrestato in flagranza di reato un 18enne del posto incensurato che aveva appena ceduto una dose di hashish ad un suo coetaneo. Nel corso della perquisizione domiciliare a casa dell'arrestato è stata trovata un'ulteriore dose di hashish e un coltello utilizzato per tagliare la sostanza stupefacente. Il 18enne si trova al momento ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Andiamo avanti. Si sperava nel rientro in classe per tutti gli studenti il prossimo 25 gennaio. Speranza disattesa dopo la diretta dell'assessore Fortini che ha annunciato una prossima valutazione dei dati per verificare le condizioni per il rientro in classe dei bambini. dei soli bambini delle primarie ma dai genitori arrivano le proteste ricordando come solo in campagna da un anno si va avanti con la didattica a distanza. Mentre l'assessore all'istruzione della regione campagna Fortini annuncia nuove valutazioni per decidere su un eventuale rientro in classe per il 25 gennaio per le sole classi quarta e quinta delle primarie escludendo automaticamente il ritorno tra i banchi per i ragazzi delle scuole medie e che frequentano le superiori si sollevano le proteste di genitori e referenti scolastici che chiedono a gran voce il ritorno tra i banchi rivolgendosi anche alle istituzioni nazionali affinché si possa in qualche modo impedire il prosieguo di una situazione unica in Italia. Solo in campagna nonostante sia zona gialla da ormai praticamente un anno i ragazzi non sono rientrati più a scuola proseguendo il loro percorso di studio solo attraverso tablet o pc che secondo quanto scrivono dal coordinamento scuole aperte campagna non sono neanche lontanamente paragonabili alla scuola. Il nostro governatore scrivono in una lettera aperta dal coordinamento scuole aperte tiene a precisare che le scuole non sono chiuse cioè la didattica a distanza ma ignora o fingi di ignorare che la scuola è un'altra cosa a tutte le età ma ancor più per i bambini piccoli. La scuola proseguono non è solo imparare chi erano i sumeri o le divisioni a due cifre la scuola è avere delle regole e un ritmo da rispettare la scuola è confronto con gli altri con divisione autonomia e tutto questo un monitor non te lo dà. Nella lettera viene inoltre rimarcato come oggi in campagna i bambini sono digitalizzati mentre però non sanno ancora né scrivere e né leggere. Ci sono bambini scrivono che hanno iniziato la prima elementare e senza saperne leggere né scrivere si sono ritrovati a utilizzare tablet e pc. Adesso sono bravissimi con i dispositivi digitali contrariamente a quello che noi genitori avremmo voluto per loro ma non sanno ancora né leggere né scrivere. Ad avallare le richieste del coordinamento contro la decisione della campagna di proseguire con la didattica a distanza anche il coordinamento presidenti di consiglio d'istituto che annunciano il prossimo incontro con la presidente della commissione istruzione della regione campagna nel corso del quale presenteranno il loro programma e chiederanno con forza il ritorno in classe per tutti gli alunni. Troviamo inaccettabile, scrivono, che si continui a tenere gli studenti in dad senza dati certi sull'incidenza nella diffusione del covid a scuola, continuando a non essere chiari sulla riapertura e disattendendo le previsioni annunciate. Non mostrano i dati dell'unità di crisi regionale, sottolineano, e si riportano dati errati e superati del CTS. Il desiderio è che la campagna sia la prima in Italia per investimenti nella scuola e non perché sia l'unica a tenere le scuole chiuse senza motivazioni oggettive, minando il futuro dei nostri figli e creando anche una differenza sostanziale con gli studenti del resto d'Italia. Partiranno a breve all'istituto Cicerone di Sala Consilina le attività extracurriculari nell'ambito del progetto Scuola Viva, 8 modi per vivere la scuola. Giunge alla quarta annualità il progetto Scuola Viva, 8 modi per vivere la scuola all'istituto Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina, che amplia la sofferta formativa anche in tempo di pandemia. Grazie al programma operativo regionale si arricchiscono i piani di studio con iniziative che abbracciano varie tematiche, spaziando dal teatro alla comunicazione, dall'ambiente alla robotica, dalla storia alla moda, dal marketing alle attività sportive. L'obiettivo del progetto Scuola Viva è quello di offrire agli studenti nuove esperienze didattiche e formative, attraverso attività laboratoriali, extracurriculari, con metodologie sperimentali e innovative. Le attività dei laboratori, seguiti dai docenti tutor, si svolgeranno in modalità online e proseguiranno in presenza nel momento in cui si potrà tornare in aula. Gli otto moduli programmati sono laboratorio teatrale, il se magico, tra storia e arte dai San Severino a Carlo V, ruralmente, pratiche di merchandising, ideo realizzo riciclo, progettiamo il futuro con il BIM, mente sana, corpo sano, mobilità sostenibile, fab lab didattico, robotica e Arduino. Partiranno a breve, ogni modulo dura 40 ore e ad ognuno possono partecipare 20 alunni. Tutte le informazioni sono sul sito web dell'Istituto Marco Tullio Cicerone. Giuseppe Lupo è stato eletto coordinatore regionale della neonata associazione UNOE che si pone come obiettivo quello di rappresentare e tutelare le associazioni e le imprese che operano nel settore dell'organizzazione degli eventi. L'ufficialità dell'elezione è arrivata lo scorso fine settimana. Il coordinatore regionale dell'Unione nazionale organizzatori eventi Giuseppe Lupo presenta la neonata associazione che si è costituita nell'ultimo anno a difesa dei diritti dei tanti lavoratori che operano nel settore dell'organizzazione di eventi e manifestazioni varie. Un settore che è stato colpito duramente e in maniera drammatica dalla crisi dovuta al covid che potrà ora contare sul sostegno di un'associazione di categoria per vedersi riconosciuti i propri diritti. Giuseppe Lupo, presidente della Proloco di Auletta, tra i sostenitori per la costituzione dell'associazione, presenta ora l'UNOE Campania e spiega quali sono in particolare i progetti finalizzati in primis a tutelare una categoria spesso bistrattata nonostante il grande valore culturale che attraverso eventi e iniziative riesce a trasferire. Giuseppe Lupo, imprenditore ed organizzatore di eventi, si è fatto promotore dell'UNOE in Campania raccogliendo anche numerose adesioni tra le aziende e associazioni campane che operano nei settori di eventi, fiere, mercatini, convegni e congressi, allestimenti, turismo e viaggi, comunicazione e grafica. Nel corso dello scorso fine settimana, durante l'assemblea regionale svoltasi in videoconferenza, sono state ufficializzate le cariche del coordinamento regionale con Lupo, titolare di Italia Eventi SRL, eletto presidente del coordinamento regionale affiancato da Marco Perrotti, dell'associazione Nuova Dimensione come vice coordinatore regionale. Il tesoriere sarà Pino Petito della Proloco Samnium di Benevento, mentre la carica di segretario è stata affidata a Paola Viscito dell'associazione Italia Eventi. Gli obiettivi dell'UNOE regione Campania, spiega Giuseppe Lupo, rispecchiano gli obiettivi nazionali, salvaguardia lavorativa di tutti i settori dediti all'organizzazione di eventi e soprattutto confronto con le istituzioni sulle tematiche legislative, sulle linee guida da approntare per permettere lo svolgimento degli eventi, delle mostre mercato, delle fiere in tutta sicurezza e con l'osservanza delle norme anti-covid. Anche se di recente Costituzione, spiega inoltre il coordinatore regionale, mira a diventare un punto di riferimento in tutte le regioni italiane per le aziende di un comparto così vasto e importante, che riguarda anche il turismo e tutte le associazioni rappresentative delle realtà locali, impegnate nella promozione territoriale e turistica delle splendide località italiane, delle sue bellezze ambientali, dei suoi borghi. Lupo si farà portavoce delle esigenze e delle associazioni campagne, tavoli istituzionali e nazionali. Ci fermiamo per la pubblicità. Bentornati in studio al Via il censimento agricolo per comprendere lo stato complessivo del settore in Italia è l'obiettivo di Coldiretti. Al Via il settimo censimento generale dell'agricoltura, che servirà a capire come sta cambiando il settore agricolo, soprattutto alla luce della pandemia da covid-19. Verranno coinvolte ovviamente le imprese agricole, che per la prima volta potranno rivolgersi ai centri di assistenza agricola della Coldiretti Campania, così come in tutta Italia, per l'assistenza ed il supporto nella compilazione dei questionari istat, in formato esclusivamente digitale. Le federazioni provinciali Coldiretti di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno hanno già attivato tutti gli sportelli che servono capillarmente il territorio regionale. Grazie ad una profonda conoscenza della realtà agricola, fanno sapere da Coldiretti, si potrà contribuire, svolgendo le interviste che costruiscono il censimento, a realizzare la fedele fotografia del patrimonio agroalimentare del Paese. I dati richiesti serviranno per conoscere le caratteristiche generali delle aziende agricole italiane, l'utilizzo dei terreni, la consistenza degli allevamenti, la forza lavoro utilizzata ed eventuali attività connesse. Il censimento dovrà concludersi entro il 30 giugno 2021 e tenuto conto delle restrizioni dovute al covid, tempi e modalità delle rilevazioni dovranno essere previamente concordati dagli imprenditori con gli operatori dei diversi centri. Un libro sulla genealogia che parte da Padula e sta arrivando nel resto del mondo, molte le copie vendute all'estero di Come si chiamava il nonno di tuo nonno, scritto da Michele Cartuscello. Nasce dalla voglia di trasmettere la sua passione per la genealogia, il libro Come si chiamava il nonno di tuo nonno, genealogia e storia familiare, scritto da Michele Cartuscello, direttore del Museo del Cognome di Padula. Il volume ha già venduto 100 copie, molte delle quali sono andate all'estero. Di questi tempi e senza aver fatto una presentazione, ha spiegato il direttore del museo, sono contento soprattutto per le copie vendute nella versione in lingua inglese. Alcune sono andate in Francia, Canada, Brasile, ma la maggior parte negli USA. Il libro ha spiegato l'autore, è una sorta di guida che indica al lettore come iniziare ad effettuare una ricerca. Una parte del libro, ha detto quasi come un secondo volume inserito all'interno, racconta come ho affrontato la ricerca sulla mia famiglia, fungendo da esempio. Una copia è stata anche donata nei giorni scorsi alla Biblioteca Comunale Romano di Padula, insieme al volume Padula e padulesi nel mondo dal 1857, viaggio fotografico tra sogno e realtà, sempre scritto e curato da Michele Cartuscello. Sono molte le ricerche genealogiche che il direttore del museo ha portato avanti finora. In questo periodo sta realizzando un nuovo lavoro sulla popolazione di Padula nel 1678, che diventerà presto un libro. In programma anche una pubblicazione sulla famiglia Bigotti di Sala Consilina, che vantava lo Ius Stepeliendi nella certosa di San Lorenzo a Padula. Questa pubblicazione sarà preceduta da una a carattere prettamente genealogica in Brasile sulla stessa famiglia. E ora lo sport. Il recente DPCM prevede la nuova zona bianca, che permetterebbe la ripresa del calcio dilettante. Nessuna regione, però almeno per il momento, vi rientra. Si rischia un ulteriore blocco fino al 5 marzo. Il Governo ha approvato le nuove misure in vigore dal 16 gennaio fino al 5 marzo. Confermate le misure vigenti per fasce differenziate, con l'aggiornamento delle soglie dell'indice RT, che sarà pari a 1 per la zona arancione e ad 1.25 per la zona rossa. Tra le novità degne di nota, in aria gialla lo stoppa le 18 per l'asporto dei bar, mentre c'è il via libera per l'apertura dei musei. In fascia arancione, invece, sono vietati gli spostamenti, anche verso le seconde abitazioni. Ci sarà la nuova zona bianca, che dovrebbe comportare un ritorno alla seminormalità, con la ripresa delle attività sportive e dei campionati giovanili e dilettantistici, anche se al momento nessuna regione avrebbe requisiti per potervi entrare. Con la prosecuzione del blocco per l'attività sportiva di contatto anche in zona gialla, infatti, si profila un altro mese di stop per tutto il mondo del calcio dilettantistico e giovanile. Uniche eccezioni i campionati di prevalente interesse nazionale. che, oltre ai professionisti, vede per il calcio a 11 della Lega Nazionale Dilettanti, la Serie D, la Primavera 1, la Primavera 2, la Primavera 3 e le Juniors nazionali. Per i campionati regionali e provinciali difficilmente si potrà derogare alle linee guida impostate dal Governo e quindi anche per la ripresa degli allenamenti di gruppo. Bisognerà aspettare che la Regione rientri all'interno della zona bianca, oppure attendere l'aggiornamento del decreto con la deadline fissata al 5 di marzo. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Buon pomeriggio!